Ciao, sono Luna dal sito vidlab.it e questa è la quarta lezione di archeologia e storia dell'arte romana. L'altra volta abbiamo accennato al santuario di Ercole vincitore a Tivoli, parlando della statua del generale che era stata a cui rinvenuta. Abbiamo anche detto che ci sono dei problemi di datazione. Noi comunque adesso prendiamo per buona la datazione del santuario al 60-50 a.C. Intanto due parole su Ercole. Ercole era in Grecia chiamato Eracle. È un personaggio mitico di duplice natura, insieme dio ed eroe. Secondo Omero, Eracle era figlio di Zeus e di una donna mortale. La sua natura divina si manifestò quando egli, ancora in fasce, strangolò due serpenti che la dea Hera, giunone per i romani, aveva mandato contro di lui per annientarlo. Risale a questo primo episodio la leggenda dell'eroe come vincitore di mostri, quale sarà in diverse occasioni. Quando divenne un ragazzo, egli sradicò a mani nude un olivo selvatico e ne ricava una clava, che lo accompagna in tutte le raffigurazioni tradizionali. Forse sempre nello stesso periodo di questo episodio, Ercole si procurò anche una pelle di leone da portare sulle spalle. E anche la pelle di leone è un attributo che vediamo spesso nell'iconografia, nelle statue che lo raffigurano, eccetera. Ad un certo momento, in una fase molto antica della storia di Roma, nasce la leggenda dell'arrivo in Italia di Ercole. È sul luogo in cui sorgerà appunto la futura Roma. A questo arrivo, secondo la leggenda, è legata alla costruzione dell'ara massima di Ercole nel foro Boario, ma ne riparleremo. Quindi il culto di Ercole fu introdotto molto presto. Adesso però andiamo a vedere il santuario di Tivoli. Questo fu un santuario di dimensioni colossali, di cui oggi resta pochissimo. Sorse su un colle tramite la realizzazione di un grandioso terrazzamento artificiale in opera cementizia. In questo terrazzamento fu fatta passare la via Tiburtina, che attraversava obliquamente la terrazza con una galleria larga 8,50 m. Dunque immaginate quanto le tecniche edilizie fossero all'avanguardia già a quel tempo. La galleria era illuminata tramite lucernari ed era servita da botteghe e magazzini. Superiormente la terrazza era chiusa su tre lati da portici adarcate incorniciate da un ordine d'orico, mentre sul lato anteriore, sfruttando il declivio, si apriva una cavea teatrale. Il tempio era addossato al portico di fondo ed era un peripterossine posico o tastilo, quindi con otto colonne sulla fronte, e di questo tempio non è visibile quasi più nulla. Quindi si trattava di un tema enos tradizionale, simile a quello di Giunone a Gabbi, che abbiamo visto nella seconda lezione. Passiamo ora alla trattazione del foro romano, che sarà un argomento un po' lunghetto e ci terrà impegnati per più di una lezione. Qui vedete la piantina dell'aria. Per parlare della storia del foro dobbiamo fare un grosso salto indietro, fino addirittura all'età del ferro. Allora, innanzitutto c'è da dire che quella del foro è una valle, risultata dall'erosione, all'interno di un banco di tuffo vulcanico formato dalle eruzioni del vulcano laziale, di uno dei tanti fiumiciattoli che si versano nel Tevere. All'inizio questa valle era una zona paludosa e inospitale, e infatti non era usata come zona per abitare, bensì come necropoli. Andiamo allora a vedere il sepolcreto arcaico. A destra del Tempio di Antonina e Faustina, di cui naturalmente parleremo più avanti, è stato scoperto nel 1902 un sepolcreto, che in origine occupava gran parte della valle del foro. Infatti le tombe passano sotto al Tempio e sotto agli altri monumenti, per cui non si può scavare per vedere quanto fosse steso nella realtà. È stato però scavato sotto al foro di Cesare, trovando sepolture protostoriche, ed è probabile che queste tombe facciano parte dello stesso cimitero del Tempio di Antonina e Faustina, anche se sono tendenzialmente un po' più antiche. Quindi l'utilizzazione della necropoli del foro è inizio nel X secolo a.C., fase in cui, non essendoci un centro urbano unitario, le tombe facevano parte di piccoli nuclei cimiteriali, pertinenti a singoli villaggi. Dopo lo scavo, accanto al Tempio, la zona è stata colmata, creando aree erbose che corrispondono alle tombe sottostanti e ne ricostruiscono la pianta. Le tombe sono tutte dell'età del ferro e sono in tutto 41. Sei di esse sono del X secolo e 12 del IX secolo. Le prime sono tutte ad incinerazione e presentano l'urna a forma di capanna e un corredo. Alcune delle seconde sono ad incinerazione, ma si trova anche l'enumazione e quindi c'è un cambiamento degli usi funerari nel corso del tempo. Tra la fine del IX e l'inizio dell'VIII secolo a.C. l'insediamento, dal Palatino, si spinse fino a qui. E di fatti la necropoli del foro fu abbandonata e si spostò all'esquilino, formando una necropoli unitaria pertinente evidentemente ad un unico centro protourbano. Rimasero però qui nel foro le tombe dei bambini. Infatti nel Lazio era abbastanza consueto che i bambini si seppellissero accanto alla casa o addirittura dentro casa. Le tombe più recenti di bambini, che sono del VII o dell'inizio del VI secolo a.C., presentano corredi molto ricchi, con ceramiche greche e oggetti in bronzo, e quindi si pensa che questa zona fosse occupata da abitazioni di famiglie di elevato livello sociale. Secondo la tradizione, nel 616 a.C. ha inizio la dominazione etrusca con la monarchia dei Tarquini. Il primo re di questa dinastia, Tarquinio Prisco, avrebbe realizzato una serie di opere pubbliche, tra cui un grandioso sistema di fognature per la bonifica delle zone paludose. La più importante è la cloaca maxima, che bonificò la valle del foro, canalizzando il corso d'acqua del velabro. Il percorso della cloaca maxima è ancora oggi riconoscibile. Intorno al 600 a.C. venne realizzata la prima pavimentazione del foro in terra abbattuta, segno che ormai la zona era entrata a far parte del centro abitato, costituito con l'unificazione dei vari villaggi sui colli Palatino, Campidoglio e Quirinale. Vediamo adesso la regia, scritta con una gistola perché è in latino. Questo è un edificio di forma irregolare, che si trova a sud del tempio di Antonino e Faustina, la cui identificazione è certa. Secondo la tradizione, la regia fu costruita da Numa Pompilio, il secondo re di Roma, per farne la sua abitazione. Anche secondo lo scrittore Festo, la regia è la casa dove abita il re. Facciamo attenzione che per re si intende il vero re, quello regnante a Roma durante la monarchia, perché esistette un'altra figura, chiamata Rex Sacrorum, che però era una figura che all'inizio dell'età repubblicana rivestiva solo il ruolo sacerdotale, che prima era stato del monarca, e non aveva quindi le funzioni politiche e militari del vero re. Capire questa distinzione è importante perché Rex Sacrorum non abitò mai nella regia, ma aveva una sua abitazione nel punto più alto della via sacra, una importante via che passava nel foro, e questa abitazione del Rex Sacrorum passò poi probabilmente al Pontefice Massimo, il capo del collegio sacerdotale. Quindi sia il Rex Sacrorum che il Pontefice Massimo non abitavano nella regia, ma nella regia effettuavano le loro fusioni sacrali. Sappiamo che all'interno della regia c'era un santuario di Marte, dove erano conservati gli scudi sacri, i quali venivano portati in processione da sacerdoti chiamati sali, che vuol dire danzatori, perché ogni anno a marzo eseguivano una danza in onore del Dio. Nella regia c'era anche un santuario di Ops Consiva, la dea agricola dei raccolti, e inoltre ospitava gli archivi dei pontefici, il calendario e gli annali della città. Probabilmente all'inizio la regia era un complesso molto più ampio, comprendente la regia vera e propria, la casa del Rex Sacrorum e quella delle Vestali, cioè la Triunveste, che analizzeremo dopo. Con l'inizio della Repubblica il complesso perse poi la sua originaria funzione, e quindi fu diviso in vari settori destinati ad usi diversi. Grazie.